Si rinnova l'appuntamento con la manifestazione La Montagna che Unisce, giunta alla 17esima edizione, e col sentiero stellare dedicato al beato Pier Giorgio Frassati, che porterà gli escursionisti che partiranno da Fonni, Desu, Larsen e Villagrande, appunta la Marmora a 1834 metri di quota. Un evento ideato e organizzato dal CAI, il Club Alpino Italiano, unitamente all'amministrazione dei quattro paesi che hanno giurisdizione sul tetto dell'isola. Il programma dell'evento, che si terrà il 13 maggio, è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nel municipio di Nuoro. All'incontro sono intervenuti il vice-sindaco del capoluogo Sebastiano Cocco, il presidente del CAI, Matteo Martedu, i sindaci di Desulo, Gigi Littarro e di Arzana, Marco Melis, e componenti del Club Alpino Italiano, con in testa i past presidents Peppino Cicalò e Giancarlo Pava. Una manifestazione nata nel 2002 con l'intento di unire le comunità di Desulo, Fonni, Arzana e Villagrande attorno al Gianna Argento, alla sua fetta. Un'azione simbolica per porre fine a secoli di divisioni. E dai quattro paesi, in cui si aggiunge anche quello di Urruinas, in territorio di Arzana, disabitato al Medioevo, partiranno le carovane che ascenderanno a Punta la Marmora. Il vice-sindaco Cocco ha applaudito all'iniziativa, ricordando nell'alto significato simbolico. Nel dettaglio dell'evento è entrato il presidente Martedu, ricordando sia la genesi della manifestazione e ponendo l'accento su come punta la marmora dedicata all'esploratore Alberto, sia da oltre un secolo al centro dell'attenzione del CAI, che si adoperò all'inizio del Novecento, per la costruzione di un rifugio dedicato all'esploratore piemontese. Una struttura ora caduta in rovina, per la quale, nonostante ci sia un finanziamento di 200 mila euro, non si riesce a partire per la ricostruzione, visto il no, della sovrintendenza. Il sindaco di Arzana ha ricordato che spesso le istituzioni regionali si dimenticano che in Sardegna, oltre al mare, esistono le montagne, con le popolazioni che le vivono tutto l'anno. Sulla stessa lunghezza d'onda, il sindaco Littaru, che ha ringraziato il CAI per l'attenzione che riesce a richiamare sempre sulla montagna, che per la regione però non esiste. Quanto al progetto sul rifugio alla marmora, è fermo per questioni burocratiche, ma l'obiettivo dell'amministrazione è quello di ricostruirlo in quanto ben identitario, ma anche come simbolo per chi vive in montagna. Grazie, grazie.